Si è tenuta oggi l'inaugurazione della nuova sede di Confesercenti a Gabice Mare, un sede che è stata spostata in una zona più centrale, soprattutto più raggiungibile del comune e della città per permettere a tutti gli esercenti e a tutti gli imprenditori di avere delle garanzie buone e nuove per le loro attività. È uno di quei progetti sui quali lavoravamo da tanto tempo, quello di aprire una nuova sede perché siamo già operativi in questo comune da tanti anni, però quello di oggi è un progetto che prende forma già da diversi anni, che è quello di ristrutturare e riqualificare tutti i nostri servizi sia per gli associati ma anche per attività sindacale. È stata una richiesta specifica dei nostri associati che volevano avere una sede più comoda, più smart, quindi più intelligente, più interattiva anche con loro. Abbiamo delle professionalità all'interno che sono molto importanti e che, essendo professionisti, hanno dei settori specifici, però faranno da tre d'union con la casa madre, quella di Pesaro, che in realtà poi è piena di grandi professionalità, di professionisti ed è un coacervo di tante attività che confesarcenti dal nazionale ma poi al provinciale e oggi anche qui, che aiuteranno tantissimo, secondo il nostro parere, i nostri associati. Le attività si dividono, diciamo che si dividono tra attività stagionali, attività annuali e siamo in tutto, adesso a larghe linee, una settantina e oltre. Quelle che aiutiamo sono giornalialmente. Quali erano le maggiori difficoltà per gli imprenditori della zona? La maggiore difficoltà, quelle che gli imprenditori di Gabicio, sono quelle che hanno tutti gli altri imprenditori. La difficoltà grossa qui è che sei al confine con la Romagna, che ha un'altra gestione turistico-commerciale e molte volte bisogna adeguarsi, non bisogna perdere la propria identità, perché noi siamo marchigiani, però ogni tanto carpire anche qualche suggerimento che ci dà la parte romagnola non sarebbe male. Abbiamo delle eccellenze sia turistiche che commerciali e credo che in questo momento siamo in grado di poter fare il lavoro che abbiamo intenzione di fare, portare avanti questa intensità sindacale che è necessaria nella zona. I confesercenti, tra le altre associazioni che abbiamo qui sul territorio, sicuramente è una di quelle di maggior prestigio, che seguono molto la parte del commercio, mentre magari con commercio, con partigianato, hanno anche altre tipologie, e CNA hanno altre tipologie di utenti, di destinatari dei loro servizi. Comunque è una associazione molto forte a cui spetterà insieme all'amministrazione un progetto di grandi sfide, perché abbiamo intenzione, come già detto poi in campagna elettorale, ma io ricordo tutte le mie parole, di strutturare un tavolo di confronto, di condivisione proprio con queste associazioni del territorio per affrontare i vari problemi che riguarderanno le attività economiche.